Sì, è un ristorante. Lo lo diciamo adesso. Grazie, lo sento. Ringraziamo l'ospitalità della garage, mi pare molto carino, è la prima volta che ci sono qui e mi sopra tanto un'elevo. Grazie a te, grazie a te. Presidente, vuol dire qualcosa in più? Allora, un buccalupo per la Roma, chiaramente, è segura. E quindi, siamo sulla stessa barca, speriamo di superare tutta l'avversità. Forza Roma, sempre. Grazie a tutti, buonasera. Sì, grazie.